e sistemare già una tenda in modo tale da prevenire per effettuare un pre-triage, la tenda viene installata una tenda per creare le condizioni dell'isolamento per il controllo sanitario e quindi l'isolamento eventualmente una quarantena controllata all'interno della tendopoli senza far sì che gli emigrati, quindi i migranti, vengono portati in ospedale perché altrimenti ci sarebbe non contaminazione ma come per tutti non solo per loro, di appesentimento Ecco dottore, in sintesi, il sindaco, cosa vi siete detti in prefettura? Non è entrato ancora, ma ho sentito In prefettura è stato, ma dovrà parlare, la prefettura è stato istituito è tenuto un tavolo tecnico con gli operatori dell'azienda sanitaria provinciale in virtù dell'ultimo episodio che si è verificato col ricovero di ieri pomeriggio per fortuna tutto è sotto controllo, senza allarmismi e quindi ci saranno gli esami definitivi riferiti a questo paziente e non si viene abbassata la guardia ma non ci si va a prendere dal panico in modo da poter operare con la massima lucidità Due domande veloci Quali sono le situazioni di Gioia Tauro, del porto di Gioia Tauro e alcuni operai cinesi? Arriveranno tra oggi e domani e molto probabilmente dopo essere sbarcati a Fiumicino dove verranno effettuati gli opportuni controlli rimarranno in quarantena molto probabilmente in Roma stessa, nella stessa capitale e una volta finito il periodo della quarantena arriveranno al porto di Gioia Tauro per montare le gru nuove che l'autore rapportuale ha provveduto a far installare Ecco, due domande dottore L'Italia diventa il laboratorio, tutta la nazione diventa il laboratorio ad esempio di caratura mondiale, di livello mondiale anche l'America lo sta prendendo come esempio la California eccetera Ecco, quindi un'Italia che viene rilanciata e rivalutata non siamo più gli untori ma siamo l'esempio da imitare Ecco, la Calabria in questo senso è al passo con l'Italia intera? La Calabria sappiamo che ha dei gap sanitari però io ho visto la direttrice, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera che è del grande ospedale metropolitano che è molto attenta a questa problematica e molto importante sono anche i DPI i dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari in quanto l'operatore sanitario si deve approcciare con la massima sicurezza anche verso i pazienti quindi so che le mascherine e quant'altro sono arrivate e ne servono sempre di più però bisogna farne anche un buon uso e poi sono stati attribuiti, dedicati dei tamponi a un'equipe del 118 che effettua questi esami anche a domicilio per prevenire, per evitare che tutti questi pazienti arrivano tutti in ospedale in ospedale devono arrivare le persone che hanno veramente necessità Ecco, serve personale, servono medici, infermieri quindi c'è la possibilità di assumere anche velocemente come è già stato fatto in altre regioni quindi in questo senso state sollecitando? Sì, sì, so che hanno fattuato questo decreto quindi le assunzioni da quello che ho sentito ci saranno come pure si stanno organizzando anche i posti letto sia di terapia intensiva che osservazionali appunto per la quarantena Ecco, lei è un medico quindi va più sul concreto però la voglio diventare per un attimo un po' più un sognatore Da questa situazione ne usciremo? Secondo lei ne usciremo meglio o peggio? Io penso che ogni male forse non viene per nuoce meglio se non ci fosse stata comunque sono state stabilite delle regole e quindi anche dal punto di vista emergenziale insomma questo discorso è stato molto importante io ho parlato con il professor Andreoni che è venuto qui a tenere una lezione magistrale L'abbiamo seguita Sì, che l'ha seguita e lui c'è almeno la sua speranza è che si attenui col caldo perché questo virus è termolabile verso maggio, giugno, in primavera inoltrata però c'è il rischio che si riattive si riaccenda di nuovo in autunno del prossimo anno Insomma la medicina italiana viene tutto il sistema sanitario viene rilanciato paradossalmente a livello planetario quindi non tutte le cose andavano male No, no, l'Italia ha dimostrato di essere forse noi abbiamo individuato più casi perché sono stati monitorizzati e attenzionati anche tutti questi pazienti che altrove, vedi in America come si stanno moltiplicando come uno dietro l'altro come i funghi tutti questi casi ci sono anche dei recessi quindi il problema veniva tenuto sotto traccia invece in Italia siamo usciti allo scoperto Grazie Testimonianza del valore della nostra Anche in un certo senso è cautelato il discorso della privacy non si può mettere alla mercè di tutti i nomi di chi è stato contaminato perché non rischierebbero di diventare come i secoli passati degli untori e quindi di essere additati e ci vuole ovviamente molta attenzione e i responsabili sanitari riusciranno o con l'aiuto appunto di queste persone che purtroppo sono affette da infezioni da coronavirus a circoscrivere le persone che loro hanno frequentato quindi non c'è bisogno di fare proclami perché tutti si sentiva adesso sì io ho ballato alla scuola di ballo con questa persona quindi ero stata perché poi si risvegliano tutti con panico, paure e dispersione anche sia di forze, di energie che di materiale sanitario perché purtroppo le mascherine stanno andando a finire vedete in Francia come le hanno contingentate e così si arriverà anche da noi con l'augurio che non arrivi un'esplosione di questa patologia e che si riesca a tamponare la problematica ecco i posti in terapia intensiva dottore c'è la possibilità di averne e in che tempi? diceva la Fantozzi il direttore sanitario che sta provvedendo ad ampliarli ad aumentarli quindi c'è sotto questo aspetto anche una sicurezza di poterli utilizzare dei posti anche perché gli interventi o le attività di routine vengono al momento sospese e quindi si bada soltanto si garantiranno le emergenze e si garantirà il problema del coronavirus quindi quei posti che hanno dedicati alla medicina per esempio agli interventi di routine vengono dedicati adesso invece a questa problematica ottenuta per questi pazienti grazie